Il sistema Piacenza tornerà a crescere nel 2023. Tra due anni l'economia locale supererà l'ostacolo del Covid. È la previsione tracciata in un convegno organizzato da Lega Copa Emilia Ovest all'interno dell'ex Chiesa del Carmine in Piazza Casali. Il nostro territorio ha subito un rosso shock nel 2020, uno shock che secondo i nostri dati provvisori è anche maggiore di quello regionale. Le prospettive di ripartenza sono buone, nel senso che anche Piacenza risentirà favorevolmente della ripresa del commercio estero e delle domande interne. Si dovrebbe rimediare ai danni della pandemia entro il 2023. Questo naturalmente nell'ipotesi che ha un margine di ottimismo che la pandemia sia sotto controllo. Una prospettiva di crescita che però è vincolata a un altro grande tema, l'utilizzo dei fondi europei in arrivo per la ricostruzione post-Covid. Alcuni punti sono essenziali. Il primo è la rigenerazione urbana. Abbiamo tante aree dismesse in città, in provincia. Un secondo tema è quello dell'imprenditorialità per stimolare l'imprenditorialità, la cultura dell'impresa. E ultimo, sul sociale, la pandemia purtroppo ha peggiorato certe situazioni di disagio. Il convegno si è focalizzato anche sulla digitalizzazione attraverso l'intervento del professor Francesco Timpano.